Da dove siete? Io di Torino. E tu? Io di Trento. Vi siete riviste? No, in realtà ci siamo incontrate a Padova sul treno. E quindi avete fatto un po' di strada insieme già? Sì, sì sì. È uno spirito scout questo? Assolutamente sì, la strada è l'emblema dello spirito scout, quindi sì sì sì. Si sono conosciute in treno e stanno per incamminarsi ognuna con il proprio gruppo di riferimento verso Villa Buri e il campeggio di Borgo Roma, dove 18.000 scout si accamperanno per tre notti durante la Ruta Nazionale 2024 che celebra i 50 anni dalla nascita della Gesci. In stazione a Verona, zaino in spalla, fazzolettone attorno al collo, la prima accoglienza di chi, e lo hanno fatto 8 su 10 tra i partecipanti, ha scelto il treno per arrivare da tutta Italia all'insegna della sostenibilità. Questa giovane arriva da Trento. Ho colto questa proposta con molto entusiasmo, anche se comunque non distava tanta strada per arrivare qui, ma ci sembrava bello aderire alla scelta e anche ai valori dello scoutismo per lasciare il mondo un po' migliore di come l'abbiamo trovato. Di dove siete? Roma 128, il gruppo di Roma vicino alla parrocchia San Filippo Neri e San Dino. Che cosa vi aspettate da queste giornate di felicità? Sicuramente tanti incontri, esperienze nuove, conoscenze nuove. Sarà qualcosa di super positivo. Perché si sceglie di diventare scout? Io credo che uno non faccia gli scout, ma uno è scout. Quindi quando tu scegli di diventare capo testimoni tanti valori dello scoutismo, che sono valori universali, quindi cristiani, ma della vita quotidiana e comunitaria. Quindi un po' essere capo scout vuol dire anche un po' testimoniarli e portarli nella quotidianità. Ad accogliere i capi scout in stazioni in Masci il gruppo adulti operativo a Verona già da lunedì. Noi siamo qui per accoglierli, per dare indicazioni, per dare le prime informazioni e poi loro si viano ai loro sottocampi. Generazioni di felicità, io l'ho vissuto da bambino fino ad oggi, si genera felicità vivendo lo scoutismo. Lo scoutismo è conosciuto per i bambini o i grandi in pantaloncini corti che dormono in tenda. Fanno altre miliardi di cose che li rendono partecipi di questo mondo. Una quattro giorni in cammino, fatta di incontri, tavole rotonde, festa, momenti di servizio, quella che partirà stasera. E nel rispetto della scelta sostenibile anche il menù, dalla colazione alla cena, sarà vegetariano. Il menù vegetariano vi spaventa? No, 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 siamo pronti a tutto. Un pochetto, un pochino, però siamo propositivi.